Infiltrazioni mafiose nei comuni di Anzio e Nettuno, dove l'Andrangheta avrebbe messo piede nella gestione degli appalti pubblici. E a Roma un incontro sulla presenza della criminalità organizzata calabrese nel Lazio, Mauro Scanu e Antonio Scoppettuolo. Avranno tempo fino al 21 maggio le due commissioni d'accesso nominate dal prefetto di Roma per indagare sul livello di infiltrazione dell'Andrangheta nei comuni di Anzio e Nettuno. A quel punto si deciderà se scioglierò o meno i due consigli. Un procedimento amministrativo che cammina in parallelo alle indagini della procura di Roma, che il 17 febbraio ha arrestato 65 persone. Al centro dell'inchiesta è il sistema degli appalti pubblici per la raccolta dei rifiuti e la manutenzione di strade e fognature. Lavori su cui negli ultimi anni avrebbero messo le mani le famiglie criminali dei Perronace, dei Gallace e dei Madaffari. Un'infiltrazione capillare, quella dei clan calabresi, secondo l'accusa, a cominciare dalle elezioni comunali di Anzio nel 2018 per mettere in municipio persone amiche in grado di orientare l'assegnazione degli appalti. 100 voti ti dovevano dare, te ne hanno dati 90, dice uno dei boss a un candidato non indagato. È soltanto una delle tante intercettazioni dei carabinieri riportate dal Corriere della Sera. Un quadro che è diventato ancora più dettagliato nell'informativa depositata dall'antimafia al riesame. E per gli inquirenti, a riprova degli stretti rapporti tra politica e clan, ci sarebbe la stessa elezione al primo turno di Candido De Angelis, il sindaco di Anzio, che ancora oggi non risulta tra gli indagati.